Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Anche oggi abbiamo uno special guest, Neil! Oggi non special guest. Oggi special guest vuole scappare. Per la prima volta non vuoi piazzarti qua, vuoi scappare. Infatti sta facendo di tutto per anticipare la partenza. Mi sono anche convertito in una carriera migliore. Infatti gli ho messo il turbante a Neil oggi perché abbiamo appena lavato i capelli. Dovete sapere che io oggi sarò la sua... Sì, grazie per questo dettaglio molto importante. Oggi visto le tantissime richieste, in realtà tanti ti hanno scritto tagliati i capelli, Neil sei osceno, anche con l'emoji del vomito. Altri invece ci hanno detto, Neil sei fighissimo, sei strabello. E non è bastato? Non tagliare i capelli. No, non è bastato perché io ho deciso che ti devo tagliare i capelli. Perché io ho deciso che la maggior parte dei commenti dicevano che ti devo tagliare i capelli. Sì. Dovete sapere che io non ho mai tagliato i capelli a nessuno in tutta la mia vita. Non so che cosa sto a fare. No, io questa infamissima non è nemmeno al corrente, scusa, ma almeno qualche video YouTube... Perché pensavo che in questi cinque anni che non ci siamo visti sono diventate una parrucchiera. Magari ho fatto qualche corso così specialistico. Ma sicuramente ho fatto un corso special... Ecco, già ho le lacrime, siamo già messi male. Almeno qualche video YouTube, TikTok... Un video YouTube l'ho visto solo i primi 30 secondi. Poi mi sono detto vabbè, lo vedrò mentre ti taglio i capelli. Però devi apprezzare però il fatto che se non mi manda a quel paese stavolta... 911, no, cosa devo chiamare? Cioè, poi in Londra... Chiama il 911, prova. Eh sì. Non si risponde. Devi apprezzare, Neil, devi apprezzare. Perché è vero che io non ho la più pariadea di quello che sto per fare. Ok. È vero... Tutto il mio favore. Come ha tuo favore? Cioè, ovviamente no. È vero che non ho mai tagliato i capelli a nessuno nella mia vita ed è anche vero che non ho mai guardato un video su come si fa. Però ho acquistato solo per te il kit. Spero che ci sono le istruzioni come le che almeno le immagini. Di montaggio, dici? No, non servono. E abbiamo il kit completo. Ta-da! Per tagliare i capelli, nota, c'è il pettinino, abbiamo anche le mollette. Questo è il chirurgo felice, contento, cioè, come si chiama? Allegro chirurgo. Allegro chirurgo. Il chirurgo allegro e felice. Poi abbiamo le formici, ragazzi, importantissime. Ne abbiamo due diverse, ovviamente. Facciamole lì. No, adesso le prepariamo, non ti preoccupare. Guarda, sono pulitissime. Ecco qua, cadono pezzi. Queste sono le forbici. Senti il rumore, già ti piace, io già lo so. Abbiamo anche queste forbici qui con il pettinino da una parte e la lama dall'altra. Ma io penso che andrò old style e utilizzerò quelle classiche. E poi abbiamo anche, naturalmente, il pettine che sarà molto utile perché ho visto che dovrò dividerti tipo i capelli in ciocche. Bill, dovete sapere, non è molto convinto di ciò. Per niente. Però visto che ha i capelli molto molto lunghi, mi lascia giocarci un po'. A patto che se poi viene fuori un disastro totale lo porto nel parrucchiere. Tu meriti, tu metti a duro prova la nostra amicizia. È vero? Con questo sì, con questo gesto sì. Mi prendo questa grande responsabilità. E per non guardarmi così male, mi prendo questa grandissima responsabilità. Se inizio a sudare freddo, io ci provo. Ok. Io ci provo. Meglio di quello che hai. Come dicono le ragazze, mi tagli solo le punte. Un centimetro. Sì, e io come tutti i parrucchieri ti dico, vai tranquillo, fidati di me e poi taglio tutto a zero. Tanto peggio di com'è non può essere. Non è vero. Peggio di com'è è impossibile. Vedrete risultato dopo questo video. No, dopo prima. In questo video. Ok, Neil, non ti agitare. Neil, stai calmo? Stai calmo, Neil? Non ti agitare, non ti preoccupare. Sono lì, sono lì, sono lì. Guarda, ti metto anche come nel parrucchiere, guarda. Stai vedere? Mi hai... Wow. Ho sentito... Ti è piaciuto? Allora rifacciamo, aspetta. Benvenuto nel salone. Però sono per me. Nel salone, nel salone di Kiss & Makeup di Nicole. Allora. Di solito non ti ho fanno un caffè, un cornetto, qualcosa. Cosa c'è? Eeeh, senti... Non funziona più. Non ho fatto la spesa. Cut her man at home. Primo... Primo... Video che trovo. Aiuto. Vendimi, ti prego. Ti fidi di me? Ti fidi di me? Per niente. Ecco, infatti, immaginavo. Dimmi pure, che cosa facciamo oggi? Sono un po' le punte. Cosa scusa non ho sentito? Allora, sui lati, un centimetro, un centimetro. Vuoi tagliarli a zero? Sei sicuro? In alto, cioè, lascia un po' più lunghi, cioè, sono lunghi, lunghi. Niente, allora, ti vedo molto indeciso. Facciamo che decido io. Un centimetro, un centimetro. Tranquillo, tranquillo, guarda, tranquillo qui, per esempio, qui c'è un bel po' di roba che io direi può andarsene completamente, non ti preoccupare, tanto poi ti ricrescono anche in fretta, ti danno fastidio, poi c'è sempre il ciuffo davanti. Sono mesi e mesi che ti fanno questo, non puoi tagliare così. Mi rubi i miei elastici, fidati, la cosa migliore è assolutamente togliere il fatto di poterti fare la cosa, secondo me questo è il mio parere da parrucchiera, da oggi sono parrucchiera e questo è il mio parere. Se sei venuto qua da sette, te ne vai da nove, fidati, fidati di me. Tranquillo, tranquillo. È quello di caso, però. Tranquillo, ho tutto sotto controllo. Allora, tu adesso, facciamo così, tu adesso tieni il telefono e io copio esattamente quello che fanno là. Allora, lui fa così. Ah no, lo tiene da là. Voi vedete la pura nei miei occhi? Guarda, no, anzi, poco, poco, poco. Uh, no, ho sentito tanto, no, qui ho sentito il minimo. Neil, dai, ho un ciuffetto, non l'ho tagliato, ragazzi, ragazzi, ciuffetto, ciuffetto. Basta, abbiamo finito, bravissima, spettacolare, ma guarda, mi sembra... Non l'abbiamo finito, non l'abbiamo finito. Allora, il problema è che adesso ho tagliato più a destra che a sinistra, però tu non ti preoccupare. Vale, io so benissimo... Sì, che mi... Però... Sto facendo, guarda... Posso avere uno specchio? No. Così, mi specchio un po'. No, perché si fa alla fine, in questi programmi ci si guarda sempre alla fine. Oh, troppo... Ma io non taglio così, io non taglio così... Sì, ma vedi... Ma non taglio così... Metti le dita qui in mezzo... Non ti preoccupare... Perché se tagli di più, tagli anche le tue dita così... Vuoi che sfili? Tagli meno. Sfilo, non c'è problema, guarda. Guardate, guardate... No, devi prendere come... Come Twix... Cioè, prendete il Twix... Devi prendere come Twix... Guardate come sto sfilando, ah... Visto che da lì non riuscite a vedere assolutamente nulla... Questo è il risultato per il momento, quindi non ditemi che non ho tagliato, perché sto tagliando e come, ma sono sempre super super lunghi... Basta che sto cercando di fare... Allora, qui secondo me ho tagliato un po' troppo, però adesso bilancerò dall'altra parte... Però tutto sommato, secondo me, è già molto meglio, ecco, diciamo che è già molto meglio. Se potresti vedere tu adesso i commenti, proprio in questo minuto, in questo secondo... Mi direbbero, brava, finalmente così non sembri più un barbone. Sì, e tutti direbbero, ok, sei stata bravissima, apposta così. No, no. Con caps. No, no. Ragazzi, io sono molto approssimativa, però tutto sommato sta venendo una figata. Molto, molto meglio. Intanto stasera vai a ballare il tango, lì alla tua scuola di ballo... Eh, così stimato. E farai strage, si innamoreranno tutte. E hanno va sto figone. Eh, sì. Sto figone pazzesco, che ieri non era così figone, ma oggi è super figone. E ti diranno, sei stato al parrucchiere? E tu gli dirai, no, è la mia ex che mi taglia i capelli. Come gli sugger tu. E così, e così fu così che tutti e due rimasero single per sempre. Già hai rifregato quando hai accettato di fare questa cosa che ti ho mandato il messaggio che stavi in Italia. Ti ho detto, Nila, allora ti taglio i capelli. E tu, ok, lì ho acquistato tutto il kit. E lì ti sei fregato. C'è un momento di dubbolezza, ho detto di sì, cioè ti rendi conto? Eh, io infatti speravo. Ma secondo me non hai fatto un messaggio, sai, secondo me ero tipo di corsa. Hai letto così? Ah, così reggi i miei messaggi. Ah, tu praticamente a me dici sì a priori, cioè tipo la pazza, cioè vedi il messaggio, dici che è ancora Nicole, che vuole. Sì, sì, ok, va. Ti iscrivi, ok, va bene, apposta, sistemato, non devi far più altro. Ah, ok. Boh, io direi che ti ho fatto tipo una scodella. Una scodella? Avete presente le scodelle? Come ti tagliamo i capelli la mamma? Allora aspetta, faccio un po', faccio un po' di layers, un po' di... Aiuto. Un po' di... Ma dovresti cambiare forbici forse? No, sono nuove, perfette. Se devo cambiare, scusa. Cioè, ma nello sottaglio di... Tu non ti preoccupare, è tutto sotto controllo. Ok. Posso dirti la verità? Mi sta piacendo questa cosa, mi sto facendo prendere la mano. Adesso capisco i parrucchieri, perché una volta che gli dici solo le punte, loro poi continuano, perché è fighissimo. Perciò lo vedo, cambiamo i ruoli e io taglio a te. Neanche morta nella vita, mai. No. Mai. Quanti like? 10.000? 15.000? Dai ragazzi. Nil mi taglia i capelli? Impossibile. 20.000. Allora, filmando da dietro, adesso faccio vedere bene, ragazzi, vabbè, questo lasciamo stare tutti questi capelli. Giù è un disastro, ok, è un disastro. Però io direi, ho sfumato praticamente solo... No, non smuovere la mia creazione pazzesca. Allora, ho praticamente sfilato un pochino qui da questa parte, che erano veramente troppo lunghi. E poi, ovviamente anche qui, tagliando anche un po' i capelli di sotto. Sì, da entrambi i lati ho fatto uguale, tranquillo. Non ho toccato più di tanto quassù, perché appunto Nil non vuole. Quindi ho lasciato mantenuto, diciamo, la lunghezza dei capelli al centro. Ho sfilato un po' i lati, poco, perché come potete vedere sono ancora lunghissimi. E ho sfilato anche qui, e moltissimo qui, perché qui abbiamo tagliato, cioè un bel pezzo, erano molto molto più lunghi. E secondo me adesso possiamo asciugare e vedere il risultato finale. Però guardate le punte, quanto sono belle adesso. Cioè, tutta un'altra cosa, Nil, tutta un'altra cosa. E' proprio sento il tatto già che... Eh, sì, sì. Ah, grazie, mi piaccio di nuovo. Aia! Che aia! Sto togliendo i capelli, no? Così si fa! C'è il fogo, cosa? Cioè... È arrivata l'ora... C'è l'idea ancora, per fortuna, ci sono ancora. Come nei programmi che alla fine fanno vedere il risultato. Adesso sei pronta. Ma vedono un mega schermo. Sei pronto per la tua... 50 pollici. Sei pronto per la tua nuova vita, con il tuo nuovo taglio di capelli? Sì, spero. Vabbè, ci sono, beh, ancora. Ci sono, hai visto? Allora? Sono sempre. Allora? Per adesso formosa, poi domani ti dico cosa mi dice il parrucchiere. Infatti stavo dicendo nel fuorionda, Neil, secondo me comunque io ti consiglio di andare nella parrucchiera. Cioè, magari oggi ma domani già... Dai, 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 ragazzi, ragazzi, dai, c'è, c'è, voglio dire, dai. Trovo a fartelo io, il man bun. Oh, oh, sono troppo corti, non si fa più. Si fa proprio poco, poco. No, no, no. Non ci riesco. Non ci credo. Forse su. Fa, sei come calciatori, va. Com'è che si chiama Ibrahimovic? Fatto! Grazie. Guardate che roba, ragazzi. Mazza che figo. Dai, due sti angoli. Ah, ragazzi, che voto mi date? 10. Là c'è Gata Stellina che non se ne frega minimamente di tutto quello che noi stiamo facendo. Secondo me la Gata non mi riconosce più. Gata. Ah, ah. Sparati, ammazzati. Volevo sistemarli anche la barba, però non c'è verso, non me la fa toccare. Però dai, almeno c'è, ragazzi. So che non si vede tantissimo la differenza, però in realtà ho tagliato tantissimo e che erano già lunghi. Cioè, vedi che quelli sotto sono così corti che non riesci più a farti... Però secondo me... Secondo me sono stata brava. Secondo me sono stata... Adesso non potete più dire a Neil che sembra un barbone che ha i capelli troppo lunghi e che deve sistemarsi, perché altrimenti mi arrabbio. Perché adesso sono perfetti, perché li ho fatti io. Donne, pronte, sto arrivando. Ah sì, tra l'altro volevo dire che in molte hanno scritto Neil, ma che figo che sei, ma sei single. Ragazze, Neil c'è Instagram, eh. Adesso ve lo scriverò qua da qualche parte. Potete... Specialmente adesso con questa... Questa... Mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto. Spero che adesso quando proverò stop, Neil non mi ammazzi. Commentate se volete altri video con Neil e soprattutto quale tipologia di video vorreste che facessimo assieme. Non tagliare più i capelli. Baccio grande mia family. Sto un po' cambiando la programmazione dei video, quindi non so esattamente se ci sarà un nuovo video domani. Vi spiegherò tutto meglio in un vlog. Comunque ci vediamo con un nuovo video domani o dopo domani. Baccio grandissimo sempre alle 14. Ciao. E vi abbraccio. Forte, forte. Ciao. Ciao. Ciao.